Il film di Sergio Leone Io ho detto, che tipo di film? L'Italia è un film italiano. Spaghetti western Io ho detto, che non ho mai sentito di un film di spagetti western. Come una pizza hawaianna. Io sentivo, già quando scrivevo che quei film avrebbero avuto grande successo, lo sapevo in partenza. Lui era un po' un visionario, non era una persona normalissima. Il cinema di Sergio Leone è tutto immagine. Che altro vi è? È molto difficile di mettere in una categoria. È popolare, ma è anche arte. È Italia, ma è anche americano. È comodità, ma è anche tragica. Un artista non muore mai. Rimani. Un artista non muore. Grazie a tutti.